ben ritrovati amici di youtube qui sul mio canale per un altro appuntamento naturalmente tutto dedicato al calciomercato come di consueto tante novità tante notizie tanti temi da approfondire sfrucugliare in vostra compagnia partiamo da un rinnovo sorpresa quello che verrà formalizzato a breve da parte della juventus con weston mckennie mckennie che era un separato in casa mckennie che però gaiù aveva provato a rinnovare la prima offerta era stata ottobre poi a novembre poi c'erano stati dei dialoghi tra febbraio e marzo un po di distanza sulle cifre il giocatore poteva andare alla stoneville aveva rifiutato il trasferimento nell'ambito dell'operazione douglas luiz a quel punto è stato utilizzato barrene cea come contropartita ha avuto un'offerta importante dal galatasaray ha detto no ha avuto un'offerta dall'arabia saudita ha detto no ha avuto un'offerta dall'mls dall'inter miami ha detto no e alla fine poi pace fatta ha deciso di accettare il rinnovo con la juventus 2 milioni 8 stagione con i bonus può scollinare i 3 milioni contratto sino al 2026 potrebbe esserci anche un'opzione per il 27 di fatto una sorta di rinnovo ponte un allungamento andiamo avanti insieme poi si vedrà mckennie scadeva nel 2025 2026 adesso la juve più tranquilla lui comunque è stato reintegrato in gruppo sarà un jolly importante per il centrocampo potrebbe anche giocare a verona visto l'indisponibilità di uea a destra e anche di kefran turam e alla fine insomma pace fatta e poi magari insomma dovesse far bene potrebbe anche allungare con un prolungamento più profondo nei mesi successivi dunque avanti insieme juve che insiste per nico gonzales 32 milioni messi sul piatto con i bonus si può arrivare facilmente a 35 32 più 3 di bonus la fiorentina vuole 40 37 si potrebbe chiudere serve uno sforzo in più però attenzione che poi magari 7 8 milioni la juve li recupera con l'operazione kostic che ha dato la sua disponibilità alla fiorentina certo se la fiorentina prende kostic parisi rischia di essere di troppo parisi che è un gran talento dove andrà chi lo sa vedremo potrebbe essere una sorpresa degli ultimi giorni di mercato parisi che era stato molto vicino alla juve tra l'altro è stata scorsa chiuso il capitolo bianconero entriamo nella missione londinese di giovanni manna perché il napoli ha chiuso manca solo il sostituto e poi sarà via libera da parte del brighton il sostituto dovrebbe essere metto raidi che fatalità del destino secondo la settimana fa era un passo dall'atalanta che poi ha preso samardic 28 milioni offerti al celtic il celtic ne vuole una trentina ma è vicinissimo metto railly al brighton a quel punto il brighton libererà gilmore 12 milioni più tre di bonus contratto quinquennale 1 e 8 più premi gilmore sarà rinforzo con il centrocampo del napoli potrebbe non essere unico rinforzo perché gaitano anche se è stato reintegrato resta vicino al cagliari perché follow roncio può andare alla lazio perché se ne è andato caius e allora attenzione anche un altro nome mc tomini resta in lista ma crescono le quotazioni di ambrabat più economico rispetto allo scozzese del manchester united che però un pallino di antonio conte ma ci riproverà in queste ore ma soprattutto oggi è lukaku day appuntamento in giornata tra napoli e celsi con la regia di federico pastorello curiosità pastorello era stato l'agente che aveva portato lukaku in italia all'inter estate 2019 poi i due si erano separati lukaku aveva cambiato diversi agenti alla fine adesso è tornato all'ovile pastorello non è ufficialmente l'agente è l'intermediario incaricato da napoli e celsi per chiudere l'operazione la sta portando avanti ormai da 3 a 4 mesi 4 magari no 3 sì perché comunque tutto giugno tutto luglio e agosto ormai e siamo in fase inoltrata operazione che il napoli vorrebbe fare 5 di prestito con obbligo di riscatto 25 il celsi vuole monetizzare subito perché ha pochi slot per i prestiti e ha tantissimi esuberi quindi si potrebbe chiudere 25 30 milioni 30 milioni tutto compreso celsi vorrebbe 40 si sta cercando magari di limare attraverso dei bonus la questione ma lukaku è stato chiaro no alla lilal che potrebbe prendere canselo occhio no a un importante club turco no alla stone villa vuole solo in napoli e alla fine sarà accontentato questo matrimonio sa da fare ma arriva lukaku lukaku simen insieme no perché poi negli ultimi giorni andrà via osimen su osimen attenzione al ritorno di fiamma last minute l'ultima settimana del pari san germen che ha un po' mollato lukman per il quale ci sono sirene inglesi e arabe ma l'atalanta conta di fare muro gli offrirà il rinnovo del contratto probabilmente a cifra molto molto importanti 3 milioni e mezzo ovvero il doppio di quello che oggi prende lukman lukman scade nel 27 potrebbe allungare al 2028 con l'opzione per il 29 con il raddoppio dell'ingaggio con l'inserimento magari di una causa recissora tra i 40 e i 50 milioni per dire se l'anno prossimo fai ancora il fenomeno sei libero di andare in un top club questo potrebbe essere il patto per cassi lukman e quindi segnali di disgelo rispetto alla questione con minas che invece non è cambiata con minas ha ribadito anche ieri voglio andare via voglio solo la juve no liverpool no manchester united no sirene arabe per cassi ha provato tramite intermediari a portare delle offerte più vantaggiose no con minas ha scelto vuole la juve 4 milioni e mezza stagione per 5 anni vuole solo la juve vuole sposare la vecchia signora la juve ha di fatto messo sul piatto la cifra che voleva per cassi per cassi aveva 60 milioni la juve è arrivata a 58 bonus compresi non è quella la differenza è che adesso l'atalanta vuole stravincere probabilmente lo libererà last minute potrebbe essere una storia tipo giuntoli alla juve che il napoli poi lo liberò all'ultimo secondo e quindi potremmo arrivare anche al 29 agosto ma cambierà poco con minas juve è un matrimonio destinato a realizzarsi mentre lukman invece c'è il segnale che il napoli che l'atalanta possa resistere stavo dicendo napoli torniamo poi al tema lukaku è un matrimonio anche questo che va celebrato con osimen che può tornare in orbita pari san germain perché perché il pari ha un po' mollato lukman e perché alla fine nel giro di attaccanti in premier si è mosso poco l'arsenal non ha fondato in questo momento per osimen il celsi altre idee quindi o cambia un'idea improvvisamente le londinesi in arabia osimen non vuole andare poi vedremo se dovesse restare a napoli il primo di settembre le cose cambieranno vedremo mai dire mai però al momento osimen pari san germain resta la pista da seguire perché così ma col pari san germain da due mesi d'accordo 14 milioni netti a stagione più bonus per 5 anni quindi poi alla fine si tratterebbe di trovare un'intesa col napoli quindi è una situazione che comunque va monitorata e va seguita questione di ore e poi paolo dibala vola in arabia salita all'alquadisia operazione da 80 milioni bonus compresi per la hoia adesso si dice sono 68 però poi ci sono bonus alla firma ci sono tutta una serie di benefici a me dicono 80 ma comunque cambia poco facciamo anche che siano 70 cifra incredibile cifra mostuosa e la roma la roma non incasserà tanto altro che 12 milioni della clausola molto meno la prima offerta dell'alquadisia è stata di 3 milioni più bonus per arrivare a 5 la roma vorrebbe qualcosa in più la sensazione che a 5 6 milioni più un piccolo bonus si possa chiudere poco ma la roma risparmia 30 milioni lordi perché dibala quest'anno ti costava 14 milioni più bonus lordi alla quindicesima presenza e l'avrebbe centrata senza grossi problemi scatta avere 9 un altro anno quindi la roma risparmia comunque 30 milioni prende qualche soldino da investire per regalare 4 5 colpi a dei rossi terzino destro siamo in chiusura per assignon prestito con obbligo di riscatto tra i 10 e i 11 milioni complessivi operazione corren danso prima scelta per la difesa occhio poi sempre anche a tiago giallo a centrocampo assalto a manu conè che piace anche al milan se dovesse andare via benasser che a sirene dall'arabia e poi davanti il sostituto di dibala in questo momento potrebbe essere bogà il nome più semplice da prendere ovviamente paragone con dibala è un po' irriverente però come caratteristiche tecnico tattiche l'esterno di piede destro che gioca a sinistra piede invertito dall'altra parte poi serve anche un vice sulle l'ultima idea è quella di ngong che può lasciare napoli sul quale c'era anche il bologna e bologna che poi ha virato su dominguez dell'innasia la plata allora con questi colpi a netto degli acquisti già presi di dovic le fe e sulle e il riscatto di anghelinio e la cessione di dibala la roma è più forte e soprattutto dove può arrivare arriverà in champions o per l'ennesimo anno di fila già loro se non arriveranno a giocare la coppa delle grandi orecchie ditemi la vostra qui nei commenti lukaku napoli e osimè in paris saint germain alla fine sarà quello il matrimonio come finirà voglio i vostri pronostici i vostri pareri e poi il rinnovo di mckenny in casa juve con chiesa verso il bars con nico gonzales in arrivo ma alla fine fuori chiesa dentro nico gonzales la juve ci ha guadagnato ci ha perso ditemi la vostra nei commenti voglio i vostri pareri le vostre considerazioni le vostre analisi in alto destra la campagna da attivare per avere in temporale tutte le notifiche non perdervi neanche una notizia se vi è piaciuto il video cliccate sopra il pollicione mettete il like e condividetelo su facebook su twitter su instagram su tiktok nelle chat telegram nelle chat di whatsapp spammate ovunque andate condividetelo insomma fate crescere il canale fatelo conoscere siamo un passo dai 29 mila spero di arrivarci magari già oggi o entro domani basta un semplice click iscrivetevi al canale non costa nulla ma ci fate felici ci date soddisfazioni i numeri crescono vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro grazie a tutti ciao